Io penso che in questa situazione il lavoro del governo ovviamente non sia certamente semplice, vanno dati dei segnali e vanno dati dei segnali immediati agli imprenditori, a coloro che lavorano, a coloro che fanno lavorare e non sempre questo è avvenuto. Abbiamo visto le varie misure, oggi siamo in una situazione in cui le risorse ci sono, le risorse sono disponibili, ce ne sono molte, abbiamo vissuto molte leggi di bilancio in cui mancavano, c'è una carenza di risorse, oggi queste ci sono, è fondamentale che vengano spese bene e io penso che questo governo debba avere coraggio, coraggio che non ha avuto fino ad oggi. Il coraggio significa non destinare le risorse in mille rivoli in cui ogni rivolo rappresenta un documento, un'applicazione da scaricare, un percorso anche piuttosto tortuoso per ottenere le risorse, è necessario invece fare una scelta diversa, opzionare una strada, dare delle risorse in modo semplice, efficace e diretto, questo è un modo per andare a favore delle imprese e se si va a favore delle imprese si va a favore dei lavoratori.